Illustri colleghi, Presidente del Consiglio, i Ministri, la situazione che noi vediamo ha qualcosa di drammatico e di ridicolo. Vorrei ricordare il pensiero di Quicciardini sul tema chiave a cui richiamo il Presidente Conte, che è quello della riconoscenza. «Ma Conte è un bravo ragazzo», cantava Salvini quando qualcuno rubitava di lei, «e l'ha fortemente voluto nel luogo dove sta ora. Poi, quando Salvini se n'è andato, noi pensavamo che lei se ne andasse con lui. E invece lei, con un numero acrobatico, restò lì sostituendo se stesso, mentre la Lega cedeva il suo posto al PD, l'Italia dei due Matteo. Come ricorderà, lei è stato nominato con un colpo di mano di Renzi, cui deve di conoscenza, che, benché odiato dai Cinque Stelle, cementò un accordo tra PD e Cinque Stelle, confermandola. Non che gli importasse nulla di lei, ma lei gli era utile per far diserire ai Cinque Stelle l'inverecondo accordo, mentre Zingaretti strillava che non lo voleva. Attraverso Franceschini l'accordo fu concluso e lei prevalse. Ora, chi l'ha voluto, Renzi, non la vuole più. E chi non lo voleva, Zingaretti, oggi fortemente la vuole. Non è un paradosso e lei, invece di andarsene, continua a rimanere. Complimenti. Lei rimane e l'Italia se ne va.